buongiorno a tutti sono vicesindaco bonuto diego faccio questo messaggio insomma a nome di tutta l'amministrazione comunale in primis chiaramente del sindaco zeni che si sta godendo qualche giorno di vacanza meritato riposo volevo solo diciamo fare i complimenti a tutta la cittadinanza tutta la popolazione che ha fruito ieri dell'area griglie che vedete le mie spalle sono venuto stamattina con la polizia locale ma adesso ci sono tornato per fare un sopralluogo ed è tutto pulito sistemato ordinato i rifiuti sono tutti depositati nella piazzola apposita che coinger provvederà a recuperare ma anche come potete vedere tutta l'area è in maniera perfetta quindi non posso fare altro che ripeto a nome mio ma di tutta l'amministrazione comunale e di tutti i cittadini ringraziare tutte le persone che hanno usufruito di questa area lasciandola in maniera veramente veramente ottima come l'aveva lasciata la protezione civile la vigilia di ferragosto grazie ancora anche l'area delle griglie dove sono stati fatti barbecue è stata gestita e fruita in massima sicurezza in maniera ottima e perfetta grazie a tutti e buona fine estate buone vacanze a chi deve ancora fare grazie